questo è il mio canale Anna Italia, benvenuti, io sono ucraina e vivo tanti anni in Italia dormiamo in macchina, ma ce l'ho a casa mia proprietà e c'è 5 stelle tutto costoso, tutto bello, casa mia, ma dormiamo in macchina perché non voglio pagare più di 1000 euro, costa pagare in Livigno albergo per una settimana, siamo qui una settimana tanto tanto shopping, velocemente vi faccio vedere oggi mi accompagno, ultime cose che abbiamo oggi comprato ho comprato questi, come si chiamano, di vera, per mettere nelle pantofole in casa, vera pedora e poi che ho comprato? Questi qua, per regalo, biscotto tipico per regalo, questo mangiamo noi stasera, domani oppure a casa, questo è più grande oggi hanno speso 43 euro, prezzi di Livigno e questi non ci sono, prezzi non è alti, ma non è normali i prezzi, diciamo ho comprato mezzo chilo di, perché voglio fare pezzoccheri a casa piatto tipico di Livigno vicino scadenza, io non ho capito, perché è luglio, ora è luglio oggi che giorno, è rimasti pochi giorni, non ho visto questo due formaggi per pezzoccheri uno questo, tipico, abbiamo borsa a frigo, ecco qua, pezzoccheri questi abbiamo comprato due confezioni di pezzoccheri poi anche polenta, qui si mangia polenta taragata come si chiama, taragna, taragna, polenta taragna mertelli mangiamo qui tutti i giorni, 12 euro al chilo yogurt tutto i giorni, metà lui, metà io a colazione questo già abbiamo provato tre anni fa, siamo stati qua con le semplici leate da bere pochino zucchero, ma è tanto profumato di questi qua poi pane, vi volevo fare vedere pane di segale è questo qua, questo qua, mandangia, come questo pane morbido tutti i giorni compriamo volevo portare, comprare anche a casa forse domani riesco ancora a comprare ultimi tre abbiamo comprato poi tanti fondini questi qua, 8 euro al chilo io faccio zuppa, zuppa di legumi tanta zuppa di legumi questo speck questo speck danno anche brisaola qualche volta pomodori per viaggio, anche qui mangiamo ora questo fa male, non comprate poi io ho comprato oggi vaso per mio tavolo per tavolo comunque qualcosa questo vaso di vera cera 11 euro costa vera cera amici, ecco qua qualcosa vivo, qualcosa naturale perché plastica io a me non piace plastica 11 euro c'è anche scontrino poi chi vi voglio fare vedere ancora qui? andiamo qua a vedere davanti, pieno pieno domani prima di partire se sistemiamo tutto tanti fondini questa termica tanti fondini per zuppe quelle mie famose che io faccio funghi secchi comprato tra grande confezione mi sembra 70 euro al chilo pomodori risparmiato più di 1000 euro amici più di 1000 euro albergo assolutamente no comunque tanti scarpe tanti pantaloni ancora pizzoccheri vedete qui è pieno 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 domani sistemiamo tutto domani sistemiamo tutto perché qui non lo so siamo preoccupati siamo troppo pieni abbiamo speso solo per shopping più di 2000 euro poi viaggio benzina costa poco alivino benzina costa pochissimo abbiamo anche vedete siamo attrezzati bene scaduta o non è scaduta ancora? no non è scaduta c'è anche luce ecco qua benvenuti c'è anche lampada siamo attrezzati abbiamo esperienza amici esperienza e ora mettiamo tutto in macchina tutto a posto questo qua e quello che mangiamo mangiamo quello che portiamo a casa portiamo a casa ci vediamo presto seguitemi scrivetemi i miei messaggi scrivetemi like mettetemi like e coraggio forse coraggio partite partite assolutamente non pensate in albergo pensate a sé ma è meglio mangiare bene ma dormire tornate a casa riposate a casa dopo nessuno non è morto ancora si è dormito un pochino scomodo ecco così bene partiamo quello che è rimasto mettiamo subito 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 a posto rotoli rotoli belli belli perché qui vedete mettiamo indietro nostra roba per dormire e avanti tutta tutta spesa qui velocemente ancora non è tutto velocemente sto a mangiare per strada mangiamo mertilli qualcosa leggero abbiamo tutti i nostri integratori che prendiamo tutti i giorni qui pieno di spec e formaggi tipici qui c'è pane pane quello di segale basso basso che mi piace ci tengo amici vedere ora una cosa sorpresa ora vi faccio vedere un attimo qui pieno qui mio secondo giubbetto le ha tanta roba scarpe non mi ricordo quali ci tengo velocemente a fare vedere che cosa ha comprato Versace amici Versace tester 200 ml non acqua profumata ma proprio tester Versace 200 ml ho pagato 29 euro ho comprato diversi tester perché tester si vendono chi non lo sa quando finito diciamo profumo non producono più perché profumi sempre si rinnovano rinnovano e vendono questo tester pieno 200 ml 200 amici 29 euro qui ecco qua mio compagno molto bravo per mettere tutto a posto qui si infiliata macchina due ore fa amici siamo stretti qua abbastanza il parcheggio si è riempito molto forte perché siamo stati qui da lunedì siamo entrati lunedì poca gente ora è pieno 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 anche camper amici anche camper tutto questo per scarpe non si sa questo nostro asciugamano un piegare di qua guardate quanta roba seguitemi seguitemi così mie scarpe nuove che ho comprato già camminato altri scarpe qui non mi ricordo che cos'è forse altri profumi perché ho comprato tantissimi profumi e ora velocemente mettiamo tutto a posto ora si guarda si si cercherà di fare meno possibile meno possibile piegare molto bene bene capito che cosa mi 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 amici non arrivo non arrivo qui comunque piano piano si fa tutto si fa tutto piano piano si ci siamo ci siamo qui da cento parchi doveva essere poco 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 perché qui comunque amici ci sono dogana ci sono dogana anche e dobbiamo stare attenti questa spazzatura quando aprono alla dogana deve essere elegante più possibile ecco abbiamo si può anche non coprire aspetta faccio vedere quanto ecco abbastanza già elegante senza coprire ma mio compagno voglio coprire questa borsa mettiamo qua e vediamo che c'è qui che c'è qui ecco qua e qui non c'è niente qui acqua nostra acqua mio compagno guarda mio video due borse telefono si carica e siamo a posto e partiamo ora questo metto sotto schiena mio siamo a posto andiamo qua amici qui c'è negozio per la casa una coccola per la mia casa voglio fare voglio voglio comprare qualcosa già siamo stati ieri qua solo 29 euro comunque c'è tanta bella roba così tanta tanta roba c'è che io non riesco a scegliere non riesco a scegliere niente così veloce amici cosa posso scegliere troppa roba qua 35 euro questi boni ce li ho qualcosa non voglio comprare qualcosa interessante questo che serve questo qua di vetro già ce li ho questo è vetro questi bicchieri ce li ho qualcosa veloce ancora ho preso il brisaulia 28 euro tagliata e un po' di ricotta per viaggio amici questa bella 16 euro mi piacciono tanto tutti gli amici non lo so qui un po' costa di più meglio comprare in cop o nel supermercato ultimo bar ultima giornata prendiamo caffè e partiamo mi fai due caffè per favore il caffè in atto è normale non normale grazie che bar ora vi dirò quanto si chiama se venite agli vini venite qua perché è molto molto carina questa ragazza qui c'è un grande bagno che potete lavarsi guardi là in fondo e lavorano fino a mezzinotte da mattina fino a mercoledì chiuso buono mi chiedere a mezzinotte a mezzinotte a mezzinotte